ciao a tutti ragazzi benvenuti in questo nuovo video di final fantasy 15 no xb allora abbiamo già fatto la registrazione mike leeds essendo lui un genio della matematica un genio di tutto cosa mi ha detto si si ho messo a posto il canale mister l l ho messo a posto il volume scusate l ho messo a posto e alla fine cosa è successo era tutto tanneca posto il volume la nostra voce era come se noi stessimo registrando in mezzo a una tempesta di neve in antartide cioè non si sentiva un cazzo ok in quanto a metafora del meglio chiedatevi sempre di chris ragazzi in quanto a metafora del meglio di te solo quello vabbè ok non ho capito un cazzo hanno detto nocce ah no 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 basta spoiler è tutto nero e adesso ci svegliamo nel nulla si ok che cos'è sto coso che cazzo è dobbiamo chiedere un nome c**o facciamo un uomo o una donna mmm dilemma esistenziale no no non ho capito dilemma esistenziale ah noctis quindi credo sia un uomo un maschio no aspetta va super fatica cazzo ma cos'è sto coso cos'è la coda gigante vero che gigante che cazzo è e ti porto il telefono ma no ma non si tiene così un telefono sa che lui vieni tipo da meglio evo che prima le vedevo guardano dai no mh piccata da marco così c'è un coniglio che ti parla delle giteschere un coso corno che mi ha detto e così con dite leggi aspetta aspetta il tema cosa questo sogno ah ok logico logico ah ok no perché che cavolo cosa what a cazzo è nemmeno su mortal kombat pare che c'era una roba di twitter guarda va a sinistra non capisco come si gioca ma cos'è quel coso lì ma sarà una roba speciale oh l'ho preso cos'ho preso eh dei cosi che ne so tipo tipo super mario le monete di super posso giocare io? no basta no playstation mio gioco mio cazzo tuoi a casa mia non ti terrò da bere quando hai scelto ah ok vabbè non mi interessa sto furetto me lo so ma io sono il segnalatore ragazzi si segnalo tutti gli errori di Chris eh segnali anche il canale l'efficienza hai sbloccato pannelli di bro ma non sto capendo niente sembra che stia ma che cazzo l'attacco di gigantano ah ok un gigantano ma io ho paura solo dei ragni che robinio mi fa venire ah eh dove è l'incuidio? ah non c'è più ah lui ha tenuto ragno paura eh durante le registrazioni di un po' di tempo fa c'erano di un ragno e lui è sapendo tra misteri ragni non è vero non lo sapevo eh no poco ero in pace non volevo uccidere mi hai mai visto avvicinarmi a un ragno è vita mia io non ti ho mai visto rifiutare un ragno eh no di una volta una volta una volta che hai rifiutato un ragno abbiamo preso tutti i figli perché io li hai dito tutti ecco perchè non ah ecco non mi hai mai visitato ma che... che cavolo quanta ben dormito c'è sti qua siamo noi delle vacanze d'estate tutto sono arretrato da scuola che spero che arriveranno presto senza debiti perché porco schifo sto riscando anch'io eh matematica è una brutta bestia ah, ci sono matematica sotto si e poi tpse mi stanno demolendo con il... e poi tpse non sai cos'è ah beh, progettazione sistemi pratico a me mi stanno demolendo invece mi... mi.. מ... m a l'ho convinto di aver preso 8 in fisica e' tipo ttani che comincia tutto maestoso alla fine viene affondato come un... E essa con me non ti succederà nulla? No! Fa un culo! È un sogno, non possiamo morire! Giusto! Giusto, cazzo! Siamo in un sogno, non possiamo morire! Come io controllo! Aspetta, dai qua, dai qua! Dai qua! Schivata, schivata! Mi stai andando a mezzi! Schivata! Lo so! Lo so! Lo so! Stavo cercando di andare... Non ci sono i bivi, non ci capisci un cazzo! Dove è andato il furetto di merda? È un corrigoio! È un corridoio! Di questi stai perdendo in un corridoio di pietra, madonna! In un corridoio di pietra! Che cazzo! Ah! Stai! Stai rischiando! No, no, no! Mi sa che devo andare giù, veramente! Guarda che maldi che c'è! Questo burretto qua, che cavolo! Oh, cazzo! Cos'è sto coso? Non sono sti coso! Stiamo lì con que... Ehi, questa cosa! Ah, spada gioca! Martello di pla! Ma scusa! Col menù! Io ho la mano sulla fronte, ragazzi! Non sono certi giochi per successi! E premuto, offensiva, offensi... Che cazzo sto facendo? L'ho incontrato! Attaccalo! Colpiscilo! Colpiscilo cazzo! Che stai facendo? Devi dargli la guardia! Ah, offensiva, offensiva, offensiva! Non sto facendo un cazzo! Ah, ecco! Ah! Non avevo neanche le armi! Martello di plastica! Oddio! Oddio l'ho colpito! Oddio l'ho colpito! Oddio lo sto colpendo! Ah, dai, dai, è già carino! Oh, dai, vabbè! Cavolo! Ma non sembra... Allora, non ha lo stile di combattimento dei primi Final Fantasy, comunque, eh! Io non ho mai giocato a Final Fantasy! No, nel... Che segnale, che significa finale fantasioso? No, allora... Nelle cose di WhatsApp, un po'. Allora, ti spiego... Mi sta simpatico il curetto? Tipo la Square Enix, eh, stava fallendo in quel momento. E volevano, tipo, Final Fantasy non l'avevano ancora fatto. E volevano fare un gioco, tipo col bot... Finivano... Finivano col botto, tipo Final Fantasy. L'ultima fantasia di gioco, l'ultimo gioco. Però ha fatto il suo successo della Madonna e quindi... Quindi stanno andando... Quindi, fai nel Fantasy 15. Se voleva andare a 15, tipo Malota al Commodore avanti all'infinito. Ma lo faremo un botto il filo 19, da un po'. Come Dragon Ball. Esatto, no, no. Ascidale. One Piece, One Piece, ragazzi. Un pezzo. Mille episodi, ma uno, ma io, tipo... Ma uno, pochino, non potrei mai iniziare da sé, sapendo voi vedermela tutto. Devo sorbirmi 9.000 episodi, ragazzi. Poi sapete che fanno così, perché... Scusate. Oh, che cazzo! No! Ah, no, aspetta, mi sa che cosa ho dato... Vuoi sapere... Ma che cazzo? Fermo. Ma cosa? Eh, però con la fantasia si stanno dentro. Cazzo! 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 Sì, è ovvio che c'entrava la fantasia e, cazzo, ci sono andato dentro. Sì, però guarda la grafica, però, eh. Comunque, voi sapete che tipo su One Piece vanno avanti a fare... No, che cazzo, scusate. Mille episodi. Mille episodi. Eh, ne usciranno anche tanti. Perché ogni volta che c'è uno episodio, loro sento un recitatore di casa, a fare... Come Mr. Club, ragazzi. Ogni episodio... Saldi, 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 saldi. Facciamo insieme i soldi. Saldi, saldi. Non sono morto. Non sono... Cazzo. No, 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 non di te. Sono morto veramente. Facciamo insieme con la voce di Mr. Club. Saldi, 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 saldi. Identici. Un, due, tre. Saldi, 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 saldi. Su qua, identici. Ma perché non vi iscrivete a vedere più robe come queste, ragazzi? Cioè... Perché il caricamento si sta prolungando troppo... Si sta prolungando troppo. Ecco perché. Ah, no, no, abbiamo fatto pensavo fossi morto, cazzo. Cazzo, siamo drogati. Ascolta, ma... Attorno gli chiedi cos'è qualcosa? Ah, quindi siamo una maschera, adesso capito. Ma scusa, ma... La faccia mi fa sembrare contrario. Una corte medievale... Ma scusa, ma sbaglio il furet era più piccolo di noi prima? Ma sbaglio perché siamo noi più piccoli adesso. Sbaglio oppure siamo... Ci siamo bagnati, maledizione. Vabbè, sbaglio siamo noi adesso sotto la d'acqua. Oh, cazzo. Un regalo, provo a lanciarne uno, ok. Pochi dati... Alla, oh, Akbar. Alla, Akbar. Teni premuto per... Lanciala... Vabbè... Ah, ho capito. No, non ho capito. Eh... No, aspetta, aspetta, aspettate, aspettate. Ah, ecco. Mandare il peggio è sempre. No, no, eh, no. Oh, colpisci il furetto. Facciamo i bastardi. You mother fucka! Ah, non fanno danni questi, credo. Non hai neanche colpisci il furetto. Non voglio se tu possa ammazzare il furetto dopo tutto. Credo. Il tempo è passato rapidamente. Ma vuoi che cammina, corre, cammina, corre. Ok, usiamo la spada che è più fera. Usa la spada, vediamo. Molti, molti, molti. Carina. Si, ok, non è un final fantasy di così, iniziali. GTA. Vediamo. Noctis si è trasformato. Son diventato un trasformer, cazzo. Veniso te freddo. Touch the rainbow, mother fucka. Oh, cazzo. Oh, cazzo. Ok, riprova, riprova. Debo ricredermi sulla grafica. Son passato ad avverso una coda senza la minima. Vabbè, niente. Soltà. Ecco qua. Eh, non sto capendo un cazzo, con calma. Quassù, co... Eh, salto, come un coso. Beh. Quassù, eh, grazie. Un sogno, devi fare di tutto. Il cucchiaio se esiste, ricorda. Cosa? L'hai capito il paragone? Il cucchiaio non esiste. Matrix. Ah, eh. Faffanculo. Sei sincero se io non ho mai visto Matrix? Ah. Se anch'io l'ho visto, tipo, un anno fa soltanto, quando sono tornato alla scuola. No, giuro, non l'ho mai visto. Eh, che, che, che sto facendo? Non è un amico. Salto. Salto. A sinistra c'è qualcosa. Allora. A sinistra. Sempre al dritto. Seguire le indicazioni di marcia. E cosa ci sarebbe? Obiettivo raggiunto tra, tre, due, sinistra, 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 sinistra. Sto facendo il simulatore di... Eh, me lo indire! Tiena di te! Mi tiro scaffi se non vai dritto ora. Guarda là che c'è. Ah, e vabbè ancora non c'è che poi in te, non c'è che un cazzo. Vabbè, vaici sopra comunque. Eh, ma c'è sopra e basta. Ah, tu, tu hai sempre giocato, sai come funziona? No. Vabbè, il tempo è passato rapidamente. Che cosa sta succedendo? Ah, mi c'è che un cazzo. Ah, mi c'è che un cazzo. Vabbè, vaci sopra comunque. Scatto. Ah, scatto. Sporfa lo scatto. Come? Svieni per andare ad una parte l'altra della stanza. Com'è che si fa lo scatto? Vedete? Cos'è, cos'è, cos'è? Un boss, un boss. Un boss fight. Mini boss meglio. Guarda, i gatti gli siamo avvicinati e... E non c'è notati neanche per scatto. Non è il martello. Sì, vabbè, ma stiamo spammando le como come delle merde, eh. Guardate, guardate la grafica come è proprio piena, così. Ho finito questo qua in programazione da tipo... Dieci anni o di più ste robe. Questo qua è nel pente. Dovrà essere nel dieci anni. Ah, mi hanno colpito! Ma io uso la Estus! Ah, cazzo. Ah, no, se no sarei già morto. Già, già, un avversario è difficile. Con due sei già morto, cazzo. Dopo... Etta. Sì, vabbè, ok. Però stiamo spammando... Se t'è il naso mi trovo una come è tutto. Stiamo spammando lo schifo. E more che cavolo. Adesso uso il martello! Eh, tipo... Vari danni. Si va a rima. Si va a rima. Si va a rima. I cazzetti luminosi. Ma in quanto dove è la demo? Finché... Finché non finirà la giovinezza, immagia. Giovinezza. Ah, già. Posso giocare io? Che forse io almeno ho una vaga di idea di cosa devo fare. Hai una valida idea di cosa fare? Si, figli nel gioco. Che livello, scusa. Oh, finché ti sono arrivato anch'io. Oh, mio Dio. Tira un calcio, tira un calcio lì che cade tutto. Me li facevo sempre... No, sono gli stessi mattoncini che avevo ancora piccolo, madonna cara. Non mi rompere! Oh, cazzo! Sono morto. Ah, non sono morto. Stessi mattoncini che avevo io da piccolo, ragazzi. Stessa forma, stesso colore, stesso materiale. Qualcosa mi dice... No, 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 no. Qualcosa mi dice che mi ha messo tanto. Ok, tieni. Ok, ora sta giocando. Attento col microfono in testa. Ok, ora sta giocando un tipo con un po' di riserva. Stai diventando un gittiano adesso. Mi dici anche se non adesso l'onora di un gittiano. Oh, oh! Motherfucka! Non ci passo! Ah, sì. Ma dov'è che dobbiamo andare? Come si smontra il veicolo? Premi... X. Che cazzo, voglio usarlo come è. Noi possiamo diventare tutto. Vuoi farci scattare? Così stai scappando. Cioè, tieni... Eh sì, questo è uno scatto. Eh, noioso! Ah! Oppa, ecco qui. Ah, ma che vuole! Ma noi cosa dobbiamo fare? Appunto! Mi sa che dobbiamo andare dal furetto che è sopra il tavolo. Ma che cazzo ha fatto? Ma perché lancico? Mi dobbiamo andare dal furetto che è sopra la verde? E' l'attenzione del furetto che ci aiuta. Eh, ti vedi un pettardo? No, dai. Dai, poveretto. Dai, poveretto, dai. E' palloso! Aaaaaaah! E' sopra la sedia, ma come ci arriviamo? Ah, no! C'è tutto un insieme di cose che potremmo usare per sedere. Guarda, qua! Ma non lì! Sì! Forse facciamo parkour, ma vaffan... Parkour su cosa? Parkour su cosa? Alla... Alla se si iscrive che ci arrampichi sul... Passo il cuscino, ci puoi uscire, ma sì! No, ma neanche! Qua, aspetta, qua! Ti metto... No, di là, di là, l'altra parte! Ma non GTA! No, 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 no! Premix! Un addio, che figo! Un maggiolino! Premix! Eh, guarda qua! Sai che passo davanti? Un uccone! Lì, qui sono sulle auto? Sto che pensano le auto? Su! Vedete? Mi stare alle prende in comando! Te l'ho detto io, coglione! No, me non ce l'ho arrivata da sola! Sì! Vedo quello! Chiudere! Chiudere! Come si vede? Come si faccia ad attaccare? Cerchio! Non si spacca un cazzo! Sto cadendo! La spada che attraversa la spada è proprio perfetta! Non si spacca niente! Vai su! Non perdere tempo! Ti ammazzo! La spada... La spada... La spada può essere... È... 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 Dicevamo... Registrazione fermata subito ripresa! No! 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 Sì, sì, va bene! Ma non... Devi andare avanti! Non rompere le palle! Mi piace! Vabbè, almeno interag... Puoi interagire con il colesterone! Carino, carino! Voglio sentire... Oh! 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 Granata! Ma l'ha fatto! Granata! Ha fatto danni però cazzo! 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 Ti vado a prendermi giocattolo! Io sono buono! Lo faccio! Scusa! Ma è una spada di plastica! Non è ancora tagliata! Vabbè! Vabbè! Sei grande come una tazzina! Cazzo! Ti rendi conto di quanto sei piccolo! Vabbè! Uuuu! Ooooooo! Cosa! Cosa! Cosa ha fatto a fa' sto volo! Tieni di aiutarsi bastardo! No... Perché non so... Qua dentro ok, ragazzi! Se si spaccassi tutto Sono anche un mano, lo sai? Sai che hai aiutato? Offensivo, ok Vieni premuto quadrato per difenderti automaticamente dagli attacchi Ah, non penso che ci sia una parata, mistero Sai come sempre fidarsi di Nickniz Questa è che è la prima volta che ci gioco anch'io, cazzo voi Ce lo diceva anche prima E perché non l'hai detto? Perché io... Stupido! Lo gioco io Non sei stupido Ma va E' caricamento, e' caricamento Mento caricato, dai No, non fare commenti sulle battute della sounds Non fare commenti Non c'è neanche qualcosa di Però mi sta un po' delmicchiamo Cioè sono abituato da roba difficilissime Mi sta annoiando anch'io, dai Dai, fai Allora, fateli che è appena la demo all'inizio C'è un corridoio lungo 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 Porta dietro il fine del tuo sogno E' già finita la demo, che cazzo? Se chiamoli insieme... Come non lo sai? Se chiamoli insieme, non lo sai? Io stavo piacendo Cosa sono diventato? Il cielo è cambiato Ah, ok, non piove più Ah, ok, non piove più Meglio Sì, cioè... Dai, io li chiamo come dire, i giochi, i film interattivi, come li chiamo, cioè... E' sicuro che sono sempre quelle lì le robe che devi fare, non è... Non è... No, su... Martello di plastica... Cosa? Aspetta... Ti affinzziando l'oggetto? Martello di plastica 2 Fa leggere la descrizione che la gente piace quando leggere la descrizione La spada Oh, ma... Spada per bambini, lei già remanergevole, che infonde, coraggio, che ne impugna Fuochi d'artificio, borsa piena di misteriose sfere, di acchure, si spingiorano, fuochi d'artificio, bellissimi Quando si svuota, puoi riempirla usando un pannello di fornimento Ok, no, ma te lo inviace Vandalo No, vandalo un caso Cisà se nebbe, guarda un po' la città, ci sono curioso Oh, vedete, vedete quanto è bella la città Sarebbe un vero peccato se non fosse interagibile, eh? Ah, 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 un vero, bellissimo questa qua Un vero peccato, davvero, eh? Guarda, un corridoio dritto A me mi piace molto il fatto che hanno messo un compagno di squadra A me tutti i giochi dove c'è un animale che ti serve è proprio una roba che è bellissima Mi strafiaccia Tipo? Tipo ruba, bro Oh, cazzo! Io ti ammazzo tutti a son di... Son di ignoranza Mi piace molto il fatto che il cane, anche il po' che fa, ti aiuta Però morì, non puoi dare amatizze di lui perché ti... Ah, è vero, va bene, non fai... Sai cos'è rule of rose? Rule of rose? Sai cos'è? Cosa? Rule of rose, sto parlando di rule of rose, sai cos'è? Fammi lo spelling Rule, rule of rose La regola... L'ordine della rosa sarà di più figura, quindi... Io conosco il nome della rosa, non l'ordine della rosa Non l'ordine della rosa, noi ci l'hanno fatto leggere, conoscono di te Poi lo guardate streaming, giustamente Ah, davvero? Alla prima volta, vi rendete conto di quanto è facile Io invece, nell'1, il demone di ferro, le golme di ferro Si, quello... L'ho battuto... bella la statua! Si, è vero, volete... C'è il level desangita dentro, si, io l'ho battuto, standogli sotto il culo, perché sotto il culo loro non ti attaccano Si, è stato di loro Quindi gli avversari più grandi sono anche quelli là, con cui più facile non si chiude danni E di più, la parte più bella è che quando veniva colpito, ballava tipo, doveva traballare, ma in realtà ballava Quella... gli schiacciano come una funzione, alla caviglia È una parodia che abbiamo visto, avete un po' di danni Eh, no, per tali, c'è un coso di... Finisci la demo! No, là c'è un coso bene di punti, devo prenderlo, vedi? Non penso che stanno... Non è qui, no, eh no, non quello là, quello Sì, non prendiamo tutto, ragazzi Allora, siamo qua per fare la demo, non può platinarla Eh, piove Oh, siamo ricchi! Oh, cavolo, ancora una altra posta Siamo... E due colpi crepano Sono abituato a giochi molto più difficili Tipo, come dire, Mega Man No, guarda, chilo, che vecchi, sono tanto più difficili Ok Quindi ci siamo ridotti anche a fare i giocchi giapponesi Noi ragazzi... Va bene, anche, va bene, che Dark Souls è giapponese Non so se avete già visto, avevamo cominciato, avevamo cominciato dicendo Eh, gli anime, i giapponesi, eh, brutti, fanno schifo, One Punch Man, dai, cioè... Cioè, non ha una trama, di cosa parla, se c'è gioco invencibile L'attacco dei giganti è brutto No, te preso da fine, non so, non fanno un cazzo giapponese dopo ci sono ridotti Entrambi One Punch Man, io attacco dei giganti e lui Death Note Come ci siamo ridotti? E adesso stiamo addirittura facendo giochi giapponesi Va bene, anche Dark Souls è giapponese Va bene, quello lì c'ha... Ci tratta, allora, si vede che è giapponese perché... Uno... Allora, va bene... Perché è fatto male, ecco, perfetto È fatto... La trama non esiste, giuro Cioè, tu... Non, va bene, non spoilerò niente Allora, vi dico, all'inizio tu devi, arrivi a Drangleic Perché devi spezzare la maledizione E finisci in tutt'altro modo Non spoilerare niente che ci banano il canale Ok, ma siamo finiti all'inizio? Siamo finiti, senti, allora... Dammi qua, giochi, già Dammi qua, tu non sei buono a giocare Ok, mister L... Io stavo cercando i soldi Ma poi si può interagire con questa cosa? Questa... e ti manda i messaggi su WhatsApp? Ah, mi piace Anche, per esempio, come si chiama? Nooo, Never Alone sarebbe da fare in due Quale? Never Alone, carino Guarda su internet, là, molto carino Infatti Never Alone In due possiamo giocarci Ma su PS? Sì, su PS, vedo anche, su PS, penso Sarebbe anche per PC, ma immagino ci sia anche su PS, oppure... Ah, no, tira, 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 dietro, dietro, là Oppure, Brothers, Brothers, che è tipo... Non sono joystick, si vede a giocare insieme Oh, nel posto dove ti senti più al sicuro Eeeh... non lo so Dormiglione come sai il cacca Ah, che idea affascinante Infatti, cosa ho detto prima? Beh, la città non è interagibile, peccato È un curidolo dritto No, non lo so, bisogna vedere il gioco completo Sì, esatto Sì, esatto Va bene, canciatele, è un curidolo dritto Però pieno di effetti speciali Dialogo liberatorio, scommettiamo Svegliati Fine Ah, la difensiva non può essere più casa Never Alone, anche lì, c'è proprio, Never Alone bisogna portare... Ci organizziamo adesso e vediamo se un giorno ci potranno prendere Never Alone oppure Brothers Di cosa parla? Eh, tipo... Siamo in due, dobbiamo cercare di andare avanti E siamo nell'Antartide Nell'Antartide siamo una bambina che dobbiamo riuscire Una è una bambina, l'altra invece è una volpe Che può più avanti Ma non vi spoilerò niente ragazzi, vedete dopo Se porteremo la serie Epa Eeeh, non sto capendo niente È il Vaticano Che strano No, che ti prendono sotto, culetto Non ci sono neanche mai, non c'è un cazzo Non c'è un cazzo, ho una linea dritta Fortuna che gli dovevano svegliare Ah, c'è un sveglio o no? Ma dove... No, attento Ma che cazzo Ok, ti puoi andare a schiaccare a due a due Finché non diventano di sparifiglio della merda E' in giro Ah, non deve... Ancora più? Ah, ecco Regis, chiesto Ma non ricordi che non ricordi che nel mondo dei miei sogni You are king No, non c'è un cazzo Non sei utilissimo quanto una marmozza morta Tu non sapevi... Stiamo prendendo vita che cazzo Ah, stiamo recuperando vita piano piano Perché non usi la palla di fuoco? Ma che cazzo Mi sa che l'abbia finita Ma ho sbagliato io brevemente Senti ragazzi Mi sa che l'abbia finita Ah, è un cazzo Eh, ti ho detto io Uso la spada fiera Sì, ma vabbè, ma le gambe Ha le gambe piccolissime, cazzo Non potete fare le cose che vale così Ma scusa Eto che sei meglio di me a Dark Souls Te stai prendendo come un coso Ma questo gioco che non è Dark Souls E dunque è sbreschivi Ma non so come giocare Ma non so come giocare Mi stai dietro al culo Lo colpisci È così facile No, io ho fatto il casino ogni volta Oh Non vuole E ha mannato questo monstro per esempio Oh, basta Come non vuole che ti sveglio Oh, hai visto? Stai dietro la mafia È facilissimo Ma qua è combo Allora Hai colpo per pochi danni Ah, la fa pure Devo spammare cosa? Cerco per me Proiezione evasiva Ma che No, no, no Attento Ah, andiamo per die Lo stiamo ammattando piano piano Ah, cavolo Non morirà Lo stiamo prendendo Non sono andrete Resta No, non è possibile No, no, no Sei svegliato Determinazione Sei morente Sei morente, cazzo Scema, dove sei? Scema Solo perché ha giocato a Resident Evil 5 Forti Ah, siamo tornati Iva 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 Che alla fine muore anche lei dopo Non è uno spoiler Che ti aiuta dopo Ma vaffanculo Aiutami pronto E' apparso un punto di proiezione tattica Beh, per amore, non c'è un po' di combattimento Sì, è vero, sono un po' come dire Ah, io la spada Oh, ma perché la spada così grande? Scusa Ah, perché ero una macchina Ah, che cazzo Ci sono patti per un secondo Ora vai a creare maio Ci sono patti per un secondo E' infrettata Dove? Allora Spiega Non ho capito un cazzo della logica, va bene? Non ho capito un cazzo Ma io ho Io andavo mai a spammare le roba a casa Perché? Ok che ho un sogno ma Non sto capendo un cazzo Potevano montarmi una fase di poco in due Già che c'erano E' tornata una Basta No, due Ma io ero io che sbagliavo Pulsate, non so Se attivi Passerei alla fase conclusiva del gioco Continuare Sì, sì Ah, ok Mi sa che ce ne ero proprio identica Allora ragazzi Cos'è questo? Sembra che stia per succedere qualcosa No, non mi sa Siamo tornati Che cavolo Un altro boss Lo stesso di prima Ah, lo riaffronti Ok Perché capisci meglio qualcosa forse Adesso si è diventato un Ah, ah Lo spadone gigante Vieni lo spadone Bene, ora sei fortissimo Eh, sei fortissimo in casa Ma non devi far così schifo Ah no, scusate Colpo schivata Colpo schivata Guarda Grande ferro Mi ricordo il golem Guarda Ecco Vedi come la stai prendendo Come hai fatto a schivare? Triangolo Ma è bello che nessuno capisce un caso di come si attacca qua Con uno premi Schiva a caso Io spado a caso Io te mi fumetto Oh, finalmente Armi ancestrali Adesso credo che tu possa Perché non spara le palle? Non usare le palle che fa di tempo e basta Ecco Ecco Ma qualcosa X fa un salto e basta Ehm, ma dove devo schivare? Faccio io Ah, ok, bene Ho fatto qualcosa inutile Bene, sì, si capisci Mi hai lasciato morente, petto di merda Mi hai lasciato morente Schivala! Schivala schifoso! Che cazzo Vaffanculo io scappo Oh ca... No, no, cazzo no! Cazzo no, cazzo no! Ma co... Certo che tu veramente Tu mi lasci Ma dentro mi dò un gioco quando scappare Guardi, non schiva neanche che cavolo Ah, ho tornato un po' Schivala schivala! Si, ok, però è vero Ti sta distruggendo, già Ti sta massaggiando la faccia Davvero? Sto... Sto... Si, ma io, ma non puoi schivarne queste Mada! Ha, 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 ha Ma un attacco a 360 Non puoi prepararlo questo Cosa fa sta roba qui? Non fa un cazzo! Mi fa morire e basta! Mi sta stavrando Mi fa morire C'hai l'ezama dovevo creare le scelte C'è la roba girando fuori Gli sto rompendo la faccia Con... Gli sto rompendo le mani con la faccia Ha, 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 ha Ha, ha, ha Ha, 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 ha Ha, 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 ha Ha, 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 ha No, aspetta! No, aspetta! I confini sono per tornare in nuova più sicura Cazzo! Ah, mi so... Che ca... Ah, ho capito Ma credo ci sia baggato qualcosa, eh È un vantaggio eterno Sì, credo di più 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 Esatto Ah, ho capito, ho capito No, non ho capito Sì, sì, ho capito Adesso, dai... Ah, sto schivando, cazzo Ho capito, ho capito Ah, sto schivando Ah, sto schivando Ah, devi cercare in questo modo Livegli alle spalle con la proiezione Anche se non so il metodo di queste proiezioni Anche se non so il metodo di queste proiezioni Ah, no, no, mettono Ahia, ahia PM esauritti Che cazzo vuol dire? No, figlio dello schifo Capac Cioè, ok, ma ci fotte con un corpo Devo ricredermi in giusto Porta noz, fai minecraft Ah, giusto, l'hai venuto, figlio Cos'è che si è baggato tutto? Ah, addio, addio Nella demo già si bagga questo Oh, guarda, non promettemi La proiezione mi schifo di me, bravo Sì, grazie Ma cos'è, che cavolo Ma come? Io ti ho detto, fai la proiezione No, non la fa Ah, PM esauritti Guarda Che cosa? Che stai facendo? Ah, invece stranico Ehi, mi sa che sono quelle forti Dai, guarda, la macchia Ah, ok, fai terra, fa qui Madonna, cara, è Chris Sì, ma non sto capendo un cazzo Io sto premendo tassi a caso Ma non puoi usare il PM, non hai più Ah, ci siamo spingi Non ci stanziamo Non lo sapevo nunca io Eh, come qua Hai, hai la stamina Perché è così lento di ricaricarsi? No, 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 no Ti ha misauriti Ah, io non lo so E ci siamo avuti Sì, ok, ma sono imparabili Sì, roba Guarda, fa 3,60 Devo scoppare Devo resistere il terminato Possiamo tornare nel sogno, cazzo Possiamo uscire Aiuto 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 Non mi sa correre Ah, che sorpresa Eh, scatto, cammina Non lo so Oh, esci dal sogno E va a far culo piuttosto No, oh, io voglio uscire dal sogno Aspetta, vado a incastrare di là No, ho sbagliato puntante Sì, ma va avanti all'infinito Questa roba qua Impossibile da schivare Via A meno che tu non sia Oh mio Dio L'hai tirato fuori Non funziona No, non funziona Perché non la mattiamo Ci devo C'è ma cazzo C'è i di soppasso qua Saltiamo fino a quando mi bacchi Ma è funzionata Ma guarda che roba Ci stiamo passando ore Con questo boss Sì, ma c'è logica fare una roba simile cazzo Guardate che ho premuto Ma è una spada Il run in sette volte te Che cazzo Stai prima da tenere premuto Un squadro Si, colpisci Lo continuo Il buono Il bello che resta Per aspettare il colpo Oh, sono tornati I nani Dico Ok Ora andiamo Eh sì Sì, sì, sì Ok Oh, dammi, dammi Ok, ora dovrebbe esserci un filmato Via, già c'è meritata Oh Ma quella è l'auto di tuo papà Ma certo Ecco il tuo rifugio L'auto O la te Sei alto e fiero Di dentro puoi sentirti sempre insieme al tuo papà E chi è? Toppa Sì, chi è? Nome Cognome, soprannome Chiamiamolo Padre Padre Nelle giussificazioni metti la firma papà Grazie Grazie Sì A presto Ma che cazzo Che corno Qualcuno mi spiega Che corno è quello che ha in testa Che cavolo È un misto tra un gatto Un cane Un 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 Coniglio Aspetta adesso E come ti Io lo lascio così Io lo lascio così Lo chiamavo culo Ah completata Ok appena Ah sono una piccola anteprima Ti aspetta Dove Ormai hai diventato grande Sì vabbè Siamo diventati anche i primi grandi Di cavolo E che Ci sarà anche la tua piccola Ehm Ah ci sarà ancora quel Toppo fuori Dove c'è Sì Mi manda messaggi di whatsapp Cos'è quello Una cosa carina Voglio dire No Per adesso no Per farlo in qualsiasi momento Vabbè Ok Quindi ragazzi Allora se adesso Abbiamo fatto Terminiamo qua Ne parleremo nella recensione No Ok Sì Ci facciamo una recensione Tipo riflessioni Quello lì Che abbiamo Le nostre impressioni Di questa demo Gioco Quello che è Quello che potrebbe essere Esatto Quello è Oh vabbè Sì Vabbè Ehm Ci vediamo No No Schermata del titolo Adesso possiamo dire Adesso è notte però Che figo Qui me la giorno Che figata sta cosa Beh sì dai Però a me non mi piace il suo collo Mi sembra brutto Sembra fatto di sangue Sembra un tumore Che gli esce dal collo Eh boh che ne so Non so come descriverlo Vabbè È una ciliegia seccata in testa Vabbè Dai Noi fermiamo qui Ci vediamo al prossimo video Ciao a tutti ragazzi Altro gameplay di Cos'è sta roba Platinum demo Va bene Final Fantasy Di Platinum demo Sì La demo La demo Quindi siamo qui dai Chris con il solito Con la solita cosa ragazzi E la porta sta chiusa da sola Proprio Matteo Scudra Fantastico E siamo abbastanza felici Perché vedo che i viso Stanno un po' aumentando Un po' su tutto Dai Finalmente Iscrivetevi se volete Farci felici Noi Iscrivetevi 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 Diremo iscrivetevi Fiché non vi iscrivetevi Iscrivetevi No dai No dai Ci trovo nel canale Che cazzo Che cazzo succede Ok Io ho parlato Quindi non avete capito Un cazzo Aspetta Stavi dicendo Il volume L'hai regolato Prima di tutto Sì Ne sei sicuro Che poi Ma si Stai tranquillo No Si stai tranquillo Un cazzo Vabbè Vabbè Interrompi No L'ho già fatto Sì Non è vero Io non l'ho visto E la chi Metti alla fine Come cosa extra Interrompi No va fanculo Mettiamo bene il volume No va fanculo Pallo Prima dobbiamo mettere pausa Metti in pausa Ah ma si in pausa Oh mio dio